La scuola deve ritornare ad essere prioritaria nell'agenda della politica e deve essere sentita veramente come un bene comune da tutti gli italiani, deve essere sentita come l'acqua, allo stesso modo dell'acqua è un bene comune. I bambini sono i miei datori di lavoro e i bambini devono essere realmente i protagonisti di questa scuola, deve essere vista la scuola a partire dai bambini. Don Lorenzo Milani nella sua canonica, così come Mario Lodi, il maestro per eccellenza, appendeva nelle proprie classi la Costituzione. Quanto mi piacerebbe sapere che anche nelle scuole italiane ci fosse l'entrata all'ingresso, quando i bambini entrano, sia i bambini migranti, sia i bambini italiani, la Costituzione italiana che si può vivere assieme, apprendere e soprattutto esercitare assieme, perché poi la scuola è un grande esercizio della vita. Grazie mille Alex per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie soprattutto a voi, a presto.